La notizia della sua scomparsa mi ha colto del tutto impreparato e vi posso testimoniare che anche personalmente il mio dispiacere è grande e sicuramente il mio cuore in questo momento va al suo pensiero, va ai suoi familiari, a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi nipoti. Insomma, credo che tutto il Paese, da un punto di vista di comunità, non solo sportiva, perde una persona estremamente lungimirante. Lo sport sanmarinese in generale deve tanto a Luciano Capicchioni? Io penso di sì, deve tanto alle persone come Luciano Capicchioni e non è il solo, ma sono convinto che il nostro Paese è ricco ed è stato ricchissimo di quella passione, di quella voglia di trasferire veramente la loro energia a servizio di un sistema come quello sportivo estremamente importante per il nostro Paese. Per cui oggi è logico, non possiamo più confrontarci con lui, ma sono sicuro che il suo ricordo andrà avanti per lungo tempo.